Buongiorno a tutti e a tutti, direi che possiamo iniziare con la nostra giornata di studi sulle digital humanities dalla scuola al lavoro, avremo occasione di sperimentare e di ascoltare varie differenti realtà che gravitano attorno al tema delle digital humanities appunto dalla formazione nella scuola superiore, alla formazione universitaria e il dottorato, quella che è la situazione della riconoscibilità a livello anche ministeriale direi di questa disciplina, fino al rapporto con le aziende, con il mondo dell'industria e chiuderemo con una tavola rotonda proprio dedicata alla formazione di chi forma i formatori che è un tema molto caro a Dino Buzzetti e la tavola rotonda sarà proprio dedicata a lui. Partirei prima dei nostri lavori con i saluti istituzionali, manterrei l'ordine diciamo del programma e quindi chiederei a Federico Condello che è delegato dell'Ateneo per le studentesse e gli studenti ed è sempre delegato per la comunicazione istituzionale. Grazie. Buongiorno, buongiorno, bentrovate a tutte e a tutti, grazie a Francesca Tomasi che è l'anima, il cuore e la testa di questo incontro. Ti dirò che il mio più che un saluto a nome del rettore, della governance tutta che è qui rappresentata anche da Giuliana Benvenuti, è un omaggio. È un omaggio a una giornata, quella odierna, che forse si diceva prima con la collega Tomasi una ventina di anni fa sarebbe stata inimmaginabile. Una ventina di anni fa le DH erano una frontiera appena lambita da alcune intelligenze visionarie e mi fa piacere che il nome di Dino Buzzetti che ci ha lasciato circa cinque mesi fa sia stato subito in principio nominato. Oggi è un campo fruttuoso, un campo fertile, problematico, aperto a quelle che oggi con per me odioso eufemismo si chiamano sfide, che vuol dire solitamente grossi grattacapi, ma anche aperto ad una infinità di possibilità. Credo che l'età media di questa aula, senza nulla togliere ai diversamente giovani qui presenti, ma l'età media di questa aula dica moltissimo dell'interesse che oggi questo campo o questo incrocio di campi suscita. E mi complimento per questo felice coinvolgimento di tanta gioventù scolare, si diceva ai primi del Novecento, che proviene da la scuola in cui l'umanità si pratica nelle sue forme tradizionali e che si affaccia a un mondo in cui altre prospettive si aprono. Ci sono discipline che nascono per, diciamo, segmentazione. Nel mio campo, che è quello della filologia classica, questo fenomeno è iniziato addirittura nel tardo ottocento, lo specialismo incrementa e un grande campo disciplinare si frantuma in un numero, una volta preoccupante, di sottodiscipline. Ci sono discipline che nascono, diciamo così, per astrazione, che si pongono al di sopra di altre per esercitare una sorta di dominio. Potrei fare i nomi, ma non le faccio. E ci sono discipline che nascono per connubio, per congiunzione. Si sa che in natura, questo è il modo più normale, almeno ad oggi, poi ne riparliamo tra qualche decennio, per produrre delle nascite, ma la nascita per connubio in ambito culturale credo sia in assoluto la più difficile. E credo che qui stia il grande coraggio di chi pratica oggi l'EDH, perché avete un dovere enorme, che è il dovere del dialogo. Io ho la fortuna, ad alcuni è noto, ad altri no, ma non è una rivelazione estrema, di avere Francesca Tomasi per compagna di banco, compagna di studio. E quindi posso dire di avere così, per contiguità, assorbito molto, e gliene sono grato, ma posso dire di aver davvero osservato anche la maturazione di questo campo disciplinare, la grande maturazione, all'insegna, e qui concludo, soprattutto di un grande senso di responsabilità. Perché quando un campo disciplinare è nato nella ricerca, nato anzi in una ricerca più che mai pioneristica, si apre al mondo della formazione e si apre al mondo della società tutta, qui la responsabilità incrementa esponenzialmente. Io ho visto nascere la didattica delle digital inter-humanities a Bologna, che oggi conta numeri eccezionali, anche in termini occupazionali, e questo è un punto fondamentale, ma questo non diminuisce la responsabilità, non è un approdo, è un punto di partenza, perché vent'anni so bene che per la componente D delle DH sono termini di obsolescenza millenari, per la componente H delle DH vent'anni sono un battito di ciglia. Fra vent'anni avremo un mondo completamente diverso, dovrete continuare a inventare, dovrete continuare a intercettare i bisogni formativi, dovrete continuare a dialogare con i cosiddetti stakeholders, certissimo che ce la farete, bilanciando, come è successo in questi vent'anni, tanta tenacia, tanta inventiva, tanta creatività e ribadisco anche tanta responsabilità. Grazie. Grazie davvero all'amico e collega Federico per queste belle parole che ci riempiono, come dire, di gioia e al contempo di stato di ansia, di responsabilità. Do la parola a Giuliana Benvenuti, che è invece delegata per il patrimonio culturale. Grazie Giuliana. Grazie, grazie a te, grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti. È un grande piacere essere qui oggi e voglio anch'io iniziare in realtà con una notazione personale, perché appunto ho come meno da vicino, nel senso non nello stesso studio, ma nello stesso dipartimento, negli stessi anni, ho avuto la fortuna di assistere alla nascita a Bologna, di qualcosa che oggi per me, come delegata patrimonio culturale, oltre che come studiosa, è preziosissimo. Il gruppo di ricerca che si è costituito per la determinazione di Francesca Tomasi, lo voglio dire con grande onestà, che si è costituito intorno a un progetto che la determinazione di Francesca ha consentito decollasse tra le mille sfide appunto disciplinari e interdisciplinari che pongono oggi le digital humanities, parlando di filologia, di ontologie, di web semantico, di linguistica computazionale. Inseguendo a volte, percorrendo dal punto di vista soprattutto della formazione i tempi, ha dato luogo a Bologna e ha dato la possibilità all'Università di Bologna di avere appunto una filiera formativa che vi verrà poi illustrata, quindi non mi ci fermo oggi, che sta cercando ancora oggi di intercettare quelle che appunto con una parola che ha le sfide, e adesso comunque faccio fatica a utilizzare, metto tra virgolette, le sfide di questi processi di continuo cambiamento, con una grande apertura verso le nuove professioni che sono appunto necessarie oggi e che quindi richiedono continuo aggiornamento anche dal punto di vista della formazione sia magistrale che dottorale, ma devo dire che quello che è successo è che questo crogiolo di ricerca e formazione è diventato un punto di riferimento a livello nazionale che mi consente, come delegata al patrimonio culturale, oggi mi ha consentito di posizionare anche il nostro Ateneo a livello nazionale nelle misure che stiamo andando a implementare, che sono poi quelle consentite dal PNRR, di avere un ruolo importante all'inizio all'interno del panorama nazionale. Quindi come delegata proprio al patrimonio culturale ringrazio Francesca e tutto il gruppo che è qui ben rappresentato da molte colleghe e colleghe che si danno da fare tutti i giorni e che stiamo mettendo decisamente sotto pressione. Perché? Perché il mondo si trasforma, questi finanziamenti straordinari non solo riguardano le digital humanities nella cessione aurorale, ma riguardano le digital humanities oggi, che significa un'apertura anche verso le industrie culturali e creative sempre più forti, sempre più, quindi il mondo della conservazione, il mondo della digitalizzazione, il mondo della valorizzazione del patrimonio culturale, la formazione di nuovi professionisti in tutti gli ambiti, sono sfide importanti. Quindi formare diventa difficile anche perché, lo diceva il battito di ciglia e il lungo periodo delle humanities, qui l'intelligenza artificiale rappresenta la frontiera che anche in questo caso va a cui dobbiamo andare incontro. Perché proprio anche nella formazione dei nuovi professionisti, l'uso dell'intelligenza artificiale sarà sempre più una, come dire, opportunità, un limite, una sfida e di nuovo l'incrocio interdisciplinare è l'unico luogo e momento, quando il dialogo si apre tra studiosi e studiosi, che può dare frutti duraturi e riflessioni pacate, riflessioni importanti, riflessioni che ci proiettano verso, come dire, un futuro consapevole. In questo senso la responsabilità è di nuovo, sia per i ricercatori che per i formatori, piuttosto impegnativa, diciamo. L'attività di tutto il gruppo, dai laboratori alle lauree magistrali e ai dottorati, oggi incontra per l'ennesima volta, gli stakeholders. E quindi questo è l'altro momento che credo sia molto importante alla regione di oggi, per cui ringrazio di nuovo Francesca. Noi abbiamo molti temi, perché digitalizzare significa compiere operazioni, dare spazio alla ricerca, significa però anche avere produzioni inattive digitali, significa avere problemi di preservazione dei dati, significa avere problemi di conservazione del digitalizzato e del digitale, oltre che di ciò che ancora non è stato digitalizzato e deve comunque permanere nella forma originaria, ovviamente. Quindi credo davvero che la giornata di oggi possa rappresentare un momento importante per dare impulso a questa riflessione, che è più che mai urgente, perché appunto le frontiere sono sempre aperte in questo ambito di studi e i problemi che ci poniamo, sia come formatori, ma anche come responsabili del patrimonio culturale, lo dico perché questo è il mio ambito specifico in questo momento, sono davvero urgenti e riguardano, e con questo chiudo, il modo, le forme con cui noi trasmetteremo e trasmettiamo alle future generazioni un sapere millenario. Quindi questo, sì, anch'io avverto il peso di questa responsabilità, credo lo avvertiamo tutti e quindi sono molto contenta che ci siano bei momenti di riflessione come quello di oggi, ringrazio di nuovo tutti e tutti i presenti Francesca e porto i saluti del magnifico rettore, ovviamente, come ha già fatto Federico Condaglio prima di me. Grazie. Ringraziamo anche Giuliana, benvenuti anche perché il tema del patrimonio culturale per l'impostazione che Bologna ha dato alle digital humanities è effettivamente il cuore del nostro approccio critico alle humanities che identifichiamo principalmente in tutte le forme di trasmissione del patrimonio culturale, quindi vi è più necessario. Chiamo il professor Dionigi, che è il presidente del Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, oltre a essere stato direttore del nostro dipartimento, rettore dell'Alma Mater e aver ricoperto numerose cariche in Ateneo, quindi sono particolarmente lieta della sua presenza, anche perché in questo caso devo dire che fra i ricordi personali, forse se siamo arrivati qui e se io sono riuscita forse a fare quello che vi racconteremo, peraltro a breve tutti insieme, è grazie a lui. Buonasera a tutti, ma io mi sono fatto mandare i dati di Alma Laurea, peraltro una mattinata ne abbiamo discusso anche pubblicamente, Francesca ti ricordo dove tu sei intervenuta, io parlo qui a un pubblico le prime file perlomeno di esperti e poi anche i ragazzi, credo che ormai siate aggiornati, ma ci sono molti segni più, direi che di tutti gli indirizzi è quello che ha più segni più, questo delle digital humanities. c'è questo progressivo incremento allo stato attuale, diciamo sono circa 3.000 i laureati magistrali e il 15% di copertura rispetto a tutti i corsi delle altre lauree magistrali. Dicevo dei segni più, è il corso e la laurea che ha la maggior quota di studenti stranieri, rispetto agli altri, gli iscritti hanno più propensione alla migrazione per motivi di studio, nei percorsi di studio voi i vostri colleghi siete quelli più regolari, più opportunità occupazionale, addirittura anche prima di finire il percorso di studi, più retribuzioni, anche se qui sia lista, sia Alma Laurea debbono un po' correggere, un po' aggiornare i loro profili e le nuove professioni, perché ancora non hanno, sono fermi, ho visto, ne parlavamo con Francesca proprio, diciamo la realtà è andata un po' più avanti degli schemi, delle caselle di dell'Istat e anche di Alma Laurea. Ora siamo però al paradosso, direi a un cumulo di paradosi, dicevo ieri con Francesca, vi ritrovo dove ci siamo lasciati dieci anni fa, almeno dieci anni fa, perché mi ricordo allora le istanze portate a Roma a Marco Mancini, che era presidente della Cruy, poi capo dipartimento del Ministero, dell'Università, per dare un nome, un'identità, diciamo un riconoscimento, un settore poi venendo al dunque, credo che ne parlerete oggi, perché da una parte c'è un gran parlare, nei giornali, anche nell'opinione pubblica, nei media, della necessità dei saperi orizzontali, dialoganti, questa contaminazione dei saperi, questa coabitazione di tecnologia umanese, ma non se ne può più, insomma è tutto un parlare di questo. C'è questo elogio proprio del saper anfibio proprio, è vero, dell'inadeguatezza dei saperi monoculturali, non bastano solo gli umanisti da solo che rischiano di avere lo sguardo rivolti indietro, non bastano i tecnologi perché così vivono di censure, di cesure col pensiero storico, e allora io amo citare spesso Steve Jobs, che era uno che ne capiva di questa materia, il quale preoccupato del sapere algoritmico e puramente informatico diceva, ha scritto, abbiamo necessità dell'ingegnere rinascimentale, ecco in questa formula c'è tutto e non c'è bisogno di spiegarla. Poi c'è un altro film, questo è il film diciamo anche pubblico, è paradossale, poi c'è l'altro film che all'atto pratico non c'è uno spazio per le digitali umani, mentre dovete cercare qualcuno che vi adotte. Ora la filologia, le varie filologie, ora la filosofia, ora l'archivistica, ora la biblioteconomia, insomma avete bisogno di accasarvi, è vero. Paradosso, si aggiunge a paradosso, se uno va a vedere che avete una classe di laurea magistrale, che è l'M43, è vero, dove dovete sfoltire perché c'è una gran richiesta, come si dice è molto gettonata, avete progettualità, risorse europee, avete tutti quei segni più. Ecco però c'è questa difformità, è vero, c'è questo scarto, c'è questo paradosso. Io credo che all'incontro di oggi, e grazie a Francesca per averlo ideato, per essere un po' la promotrice qui nella nostra sede, di fare un po' d'anello di congiunzione, di tenaglia tra questi INGINF 01 e 05, i quali vanno un po' ammorbiditi, vanno un po' scaldati con un po' di umanesimo. Francesca credo sia la persona adatta, credo che anche la giornata di oggi possa aiutare un po', perché credo che poi le riforme, continuo a essere così, un ottimista impenitente, possano nascere solo dove ci sono delle grandi convinzioni e maturazioni di idee. Grazie, buon lavoro. Grazie davvero per le belle parole, vado rapidamente anche per te devi fuggire, vero? Con il nostro direttore invece del Dipartimento di Filologia Classica Italianistica, perché quello che poi oggi racconteremo è qualcosa che sta avvenendo principalmente dentro al nostro Dipartimento. Grazie Nicola. Grazie a tutti e a tutti voi e grazie di nuovo a Francesca per aver organizzato questa giornata, ma soprattutto per aver creduto parecchi anni fa in un progetto che, come diceva già Federico, all'epoca sembrava quasi visionario e che oggi, diciamo, progressivamente, piano piano, e durante il percorso con qualche inceppo di cui la stessa Francesca ha patito, diciamo personalmente le conseguenze, ma che ha, diciamo, comunque sostenuto con grande tenacia, un percorso appunto che si sta compiendo e che è diventato assolutamente strategico per il Dipartimento. Il nostro Dipartimento ha un nome tutto sommato abbastanza tradizionale, quindi Filologia Classica Italianistica, ma al suo interno ha un'articolazione che è sicuramente molto più innovativa di quanto il nome appunto possa far pensare. Le Digital Humanities sono state una scelta strategica del Dipartimento molto tempo fa e ribadita con grande forza nel primo progetto di eccellenza del nostro Dipartimento. Dopo di me parlerà Francesco Citti, che era il direttore all'epoca e appunto ha creduto in questa linea di sviluppo del Dipartimento e ulteriormente ribadita con, diciamo, una significativa evoluzione anche nel secondo progetto di eccellenza. Il fatto che entrambi i progetti siano stati poi approvati dal Ministero significa chiaramente che questa strategia di crescita del Dipartimento ha avuto un importante riconoscimento anche dal punto di vista istituzionale. Crescita che non vuol dire solo reclutamento evidentemente, ma investimento su ambiti disciplinari dai confini, diciamo, forse un po' sfumati, ma assolutamente centrali anche per le discipline più tradizionali del nostro Dipartimento che si stanno aprendo a loro volta alla dimensione, diciamo, digital, per riprendere uno dei due termini dell'etichetta all'interno della quale appunto si colloca questa giornata, cioè quella della Digital Humanities. E questo è un aspetto, diciamo, molto significativo sia, diciamo, dal punto di vista dell'attività di ricerca, sia dal punto di vista della formazione degli studenti e delle studentesse, che anche nelle discipline apparentemente più tradizionali trovano oggi una serie di contenuti e di sbocchi assolutamente moderni e innovativi. Di questo dobbiamo ringraziare appunto soprattutto Francesca per averci creduto e anche nei momenti, diciamo, più complessi anche per la, diciamo, sua carriera di fatto e quindi, diciamo, credo che a lei tutto il Dipartimento debba una profonda gratitudine. Dopo basta perché sennò poi si esalza troppo chiaramente. Grazie a tutti e a tutti voi. Io come sempre devo scappare, ma alle 10 devo essere in rettorato per una interessantissima attività di formazione su Ava3, quindi il prossimo processo di valutazione che Anvur mette in atto e che coinvolgerà Unibo direttamente e quindi come sempre io faccio i saluti e scappo. Questa volta mi dispiace particolarmente. Grazie a tutte e tutti voi e buona giornata e buon lavoro. Grazie anche al nostro direttore, direi che concludiamo i saluti con chi ci sta ospitando, sempre un docente del nostro Dipartimento, Filosofia Classica Italienistica, è stato ricordato breve, è stato il nostro direttore e al momento è il Presidente della Biblioteca Universitaria di Bologna che ringrazio particolarmente perché ci ospita in questa sala meravigliosa. Bene, il mio è un ringraziamento a voi per essere qui, per animare in questa giornata l'aula magna della Biblioteca Universitaria. Non è consueto vedere l'aula magna così piena per un convegno e come già è stato detto è motivo di soddisfazione il fatto che non ci siano solamente degli addetti ai lavori, ma che anche i studenti, le studentesse dell'Università di Bologna siano qui tra di noi. Benvenuto, voglio innanzitutto sottolineare il luogo dove vi trovate, Francesca ci ha tenuto molto perché poteste essere qua, è appunto come ho detto l'aula magna della Biblioteca Universitaria che è stata realizzata per volontà di Papa Benedetto XIV, che è uno dei donatori della Biblioteca Universitaria, uno dei fondi fondamentali di questa biblioteca, manoscritti e librari si deve ad una donazione di Benedetto XIV. Ecco, grazie al disegno di uno degli architetti che più ha inciso sulla storia architettonica di Bologna, cioè Carlo Francesco Dotti, è stata realizzata questa sala nel 1756, è stata così aperta alla cittadinanza la biblioteca che prima era dell'Istituto delle Scienze e poi appunto oggi è della Biblioteca Universitaria. E quindi, diciamo, è una storia di accesso ai beni culturali, certo un accesso diverso da quello digitale, comunque già ispirava l'idea di una apertura dei beni culturali al pubblico. Ecco, questo è un luogo di conservazione, di studio, di ricerca sul patrimonio culturale, il manoscritto, il libro antico, come vedete nell'atrio, anche i papiri, e sono ambiti nei quali la Biblioteca cerca di dialogare con l'Università e non solo con l'Università per appunto indagare nuovi modi di studio, di ricerca, di conservazione e di accesso al patrimonio. Ci sono ambiti nei quali appunto stiamo collaborando con il laboratorio del Dipartimento e quindi anche con tutto il gruppo delle Digital Humanities. Voglio ricordare per esempio il progetto Cultura del Ministero che riguarda in particolare una parte diciamo del settore più moderno della Biblioteca, cioè la collezione di alcune migliaia di microfilm che sono custoditi qui da noi e che riguardano in particolare le collezioni di periodici, ma in questi anni stiamo portando avanti alcuni progetti che riguardano Ulissi Aldrovandi, uno degli altri grandi fondi su cui è nata questa biblioteca e ricordo che oltre alla digitalizzazione ecco in collaborazione con l'edizione nazionale delle opere di Ulissi Aldrovandi dovrebbe nascere una edizione digitale e diciamo che sul tema delle edizioni digitali ci si è a lungo interrogati nel nostro Ateneo in particolare poi grazie anche all'interesse e l'entusiasmo di Francesca questo è sempre stato uno dei temi rilevanti voglio dire anche uno dei temi di Dino Guzzetti quello del problema della trasposizione in digitale dei testi e non solo dei testi ma anche di tutti gli elementi paratestuali che troviamo all'interno dei manoscritti voglio solo richiamare alla vostra attenzione la piccola mostra che trovate nell'atrio della biblioteca è una mostra di papiri ma diciamo può sembrare in un certo senso lontana ma l'ambito dei papiri è stato da sempre uno degli ambiti nei quali diciamo c'è stato maggiore dialogo tra appunto la ricerca filologica e le digital humanities sia per la realizzazione dei grandi database che consentono di ricercare e individuare i papiri parliamo non so del cosiddetto LDAB oppure del Mertens Pack che è appunto un repertorio di papiri o della raccolta di varie raccolte di papiri i papiri di Ossirinco sono stati tra i primi che sono stati accessibili online e anche la biblioteca universitaria ha reso accessibile tramite il servizio d'Ateneo Alma DL la sua collezione i papiri oggi questi papiri sono stati restaurati sono stati rifotografati ci sarà un convegno a metà ottobre su questi papiri e sono oggetto di studio e saranno nuovamente appunto digitalizzati e resi disponibili nella loro nuova anche disposizione perché appunto questo consente la ricerca a volte di ridisporre ricollocare le colonne e le parti dei papiri e voglio anche ricordare che vedrete c'è una piccola tavoletta cerata che è stata oggetto di un studio di particolare interesse cioè è stata scansionata in 3D e questa è tavoletta che è stata acquisita negli anni 30 non è stata ancora edita diciamo e oggi anche grazie a questa lettura 3D che è stata realizzata anche grazie al lavoratorio che è stato messo su con il PNRR ecco alla collaborazione tra l'amico Silvio Peroni e i colleghi del Bicam è stato possibile appunto in poco tempo ottenere un'elaborazione sulla quale i colleghi papirologi potranno ulteriormente lavorare quindi il mio invito la biblioteca universitaria è aperta a collezioni che come vi ho detto spaziano dall'antichità fino alla contemporaneità con una varietà assoluta perché abbiamo collezioni musicali collezioni di grafica collezioni di ogni genere e che attendono in molti casi di essere studiati e di essere valorizzati un'ultima cosa è il mio ringraziamento agli organizzatori anche in particolare per avere dedicato deciso di dedicare una sezione del loro incontro a Dino Buzzetti è stato un collega qui nell'Ateneo per me anche non solo a Bologna ma anche negli anni di Ravenna e voglio ricordare che il professor Buzzetti un filosofo medievale ha saputo appunto a volte forse più come teorico che come pratico insomma dedicare grande attenzione alla importanza delle digital humanities e che lo dico perché siamo in una biblioteca ha insegnato per anni teoria dei cataloghi e storia delle biblioteche e quindi Dino Dino Buzzetti ecco ha riconosciuto che un luogo come questo ecco è un luogo come dire adatto per avviare una riflessione ulteriore grazie Francesco